Musica Uffa, ho tanto da raccontare alla mia famiglia, ma quando mi chiamano io dormo e quando posso chiamarli io, loro sono in ufficio. Perché non scrivi un'email? Hai ragione, è più conveniente. C'è un internet point qui vicino? Certo, è proprio accanto alla caffetteria. La caffetteria Il Greco? Esatto. Perfetto, vieni con me, prendiamo un caffè. Ottima idea, a proposito, come va il tuo studio di recente? Tutto a posto? Beh, il cinese non è mica facile, lo studio solo da un mese. Non mi ricordo dove studi, all'Università alla Sapienza? Sì, ma non alla città universitaria. È un corso linguistico alla Facoltà degli Studi Orientali. Ah, allora abiti vicino a Via Principe Amadeo? Purtroppo no. Le case al Vittoriano costano troppo. Abito vicino al Ponte Mammolo. Prendo la metro linea B per arrivare a scuola. Ho capito. I professori come sono? Sono bravi? Certo, insegnano molto bene. Ogni mattina arrivo all'aula molto presto e leggo ad alta voce il testo. Durante la lezione ascolto attentamente la spiegazione grammaticale. Prendo gli appunti e partecipativamente alla discussione. Dopo la lezione faccio seriamente gli esercizi. Bravo! Sono convinta che sei uno dei migliori studenti della classe. Speriamo. Faccio tutto il possibile per migliorare la mia lingua. Come dice il pioverbio, chi cerca trova. Avete lettori di cinese, immagino? Sì. C'è una lettrice cinese molto giovane. Ha solo 24 anni. Lei parla perfettamente italiano. Quando incontro difficoltà chiedo spesso il suo aiuto nello studio e mi aiuta volentieri. Quanti anni hai? Ho vent'anni. Quanti anni hai? Ne ho venti. Quanti anni ha il ragazzo di Olivia? Non lo so. Sembra un trentenne. Quanti anni ha il tuo professore? Ha trent'anni. È molto giovane, ma ne dimostra di più. Quanti anni ha tua sorella? Ne ha solo 12, ma ne dimostra di meno.